Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a noi. Buongiorno a voi, buongiorno a noi, buongiorno a tutti e buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 19 a 28. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei li inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo, tu chi sei? Egli confessò e non lo negò, confessò, io non sono il Cristo. Allora li chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Ti dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose. Io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei e si lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Il nostro brano mette in evidenza la testimonianza di Giovanni il Battista e anche l'importanza di questa sua testimonianza. I farisei, cioè i giudei, mandarono i messaggeri per sapere chi è Giovanni il Battista. Perché? Perché lui battezzava e si sa che è solo il Messia che dovrebbe battezzare. Ma Giovanni, per dare una risposta chiara a quelli che lo interrogavano, risponde prima di tutto negando i tre titoli. Lui non è il Cristo, non è Elia, non è il profeta, ma solo una voce che grida nel deserto per preparare la via al Signore. Dunque, lui è il precursore, non è lui il Messia. Dunque, nega questo per non creare confusione. Si sa che prima del Messia si verrà Elia, ma lui non è Elia. E si sa anche che è solo il Messia che dovrebbe battezzare, ma lui non è il Cristo. Allora, dunque, dà questa risposta per far capire qual è la sua missione. E l'importanza della testimonianza di Giovanni il Battista è di fare conoscere colui che verrà dopo di lui, cioè il Messia Gesù Cristo. Ha detto che in mezzo a voi, cioè io battezzo con l'acqua, però io battezzo, però c'è uno che sta in mezzo a voi che voi non conoscete. Io battezzo con l'acqua, però in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete. Neanche Giovanni il Battista non conosceva Gesù Cristo, non conosceva lui, però sapeva che lui sta in mezzo, sicuramente, ispirato da lo Spirito Santo. E allora lui dimostra la sua umiltà per dire, ecco, io non sono in grado, non sono capace di slegare il laccio del suo sandalo. Non posso perché lui è più grande di me. Mette in evidenza l'importanza del Messia. Ecco l'importanza della testimonianza di Giovanni il Battista, mettere, fare conoscere colui che verrà dopo di lui. Ecco quello che ci racconta il nostro brano di stamattina. Per dirci, carissimi, ecco, potremmo anche attenderci alla testimonianza di Giovanni il Battista. Lui si riversa dell'umiltà, della semplicità. Non ha avuto la presunzione di caricarsi di questi titoli. Ha detto, non sono come voi lo pensate. Ecco, questo sarebbe un atto di umiltà che ognuno di noi potrebbe avere. Tanti di noi cercano di essere, no, cercano di apparire invece di essere. Ma nella vita conviene congiugare il verbo essere, ma non apparire. Giovanni il Battista ti dice, ecco, c'è uno che viene dunque da testimonianza di colui che verrà dopo di lui. Cioè un modo di far riconoscere Cristo alla gente. E così anche la missione di ogni cristiano. La nostra identità cristiana ti permette proprio di portare Cristo, di portare la gente a Cristo. La nostra testimonianza dovrebbe aiutare gli altri a conoscere Cristo o ad avvicinarsi dal Signore. Ma com'è la nostra testimonianza? Interroghiamoci. Com'è la nostra testimonianza? Noi realmente come cristiani diamo testimonianza? La nostra vita potrebbe essere conforme al Vangelo? Non si dice, e non dico che allora a 100% seguiamo ciò che ci dice il Vangelo. Non è quello che... non si tratta di questo. Ma il modo in cui noi viviamo, noi stessi, sappiamo che ecco, in qualche parte, in qualche modo, camminiamo secondo ciò che ci insegna il Vangelo o facciamo ciò che pare a noi o facciamo ciò che vogliamo fare fregandoci, diciamo, della parola di Dio, camminando nelle vie nostre, come alcuni lo dicono, che siamo liberi e facciamo ciò che vogliamo. È vero, uno può fare come vuole, però non dimentichiamo che per noi cristiani la parola di Dio è la luce sul nostro cammino, al di là dei nostri limiti, al di là dei nostri difetti, ma siamo invitati a conformarci al Vangelo come e quando possiamo. Non la santità che si conta, però cerchiamo di essere illuminati dalla parola di Dio e perciò il Papa Francesco insiste, per esempio, ecco, almeno leggere un passo biblico ogni mattina è questo passo che illumina il nostro cammino. Vi auguro una buona e santa giornata, buona festa, non dimentichiamo di pregare per l'anima del nostro carissimo Papa Benedetto XVI.